Lo senti questo fruscio? E' come un contatto d'amore fra il vento dell'amore d'Antonello e questo. Quando è bello! Madonna mia! Quello uteto, urgido, perfetto, plasticamente armonioso. Senti che liscio, senti che liscio. Ti sembra di toccare proprio il seno di una bella donna. Che cosce! Che cosce! Quando è bello! Un contatto, per me è un contatto d'amore. 97, 98, 99 e 100 milioni. Adesso c'è un regalo che ti faccio io. Scegli un 100.000 a cheso. Scegli? Tuo freghetta, hai visto? Te lo regalo, questo è un bel mazzo che ci puoi fare i tuoi giochetti. Come regolo mi dovresti fare una ricevuta, dichiaro che non ho nulla a pretendere da lino, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere, sarebbe troppo, no? Fra noi, una stretta di mano basta. Brevo, però. Che progetti hai per il futuro? Ah, tagli la corda? Forse è meglio. Porca puttana, ti sei indebitato con tutta Torino. Devi dare più di 200 milioni con sto maledetto vizio del gioco che c'hai. Ma che te ne frega, non va niente, è meglio che te ne vai. Così tutta Torino, penso che tu hai fatto 13 e io sono libero finalmente, free, free. Come dicono gli anglosassoni. Ho fatto il delitto perfetto. Eh? Che? Grazie, me la vuoi dare a me? Che dobbiamo inaugurare una neve? Tagli il nastro? Lo so che vuoi dire tu. Tagliamo la corda insieme. E mi piacerebbe anche perché Torino non è che mi ha dato tante soddisfazioni. È stato un po' fetendina nei miei riguardi. Però non varlo a tuo luce, non mi piace, io mi comò facilmente. Ciao, salutiamoci, eh. Ognuno per la sua strada. Che? Hai parlato? Che sei, vedricolo?